Eccoli qua indossate le cuffie, si siedono nelle postazioni per la sedicesima volta e mi dicono che avete vinto finora 98.407 euro. Complimenti davvero, ma questo numero ci dice che è il momento di sfondare quota 100.000. Partite da un monte premi di 142.000 euro e allora in bocca al lupo che entri l'ultima catena. Forza Marco, maturità e sostenere. Marco. Esame. L'esame di maturità alla fine della scuola superiore e sostenere un esame. Sottoporsi è un giudizio, non solo a scuola. Esatto. Bene, partiti con il piede giusto. Francesco, sostenere S, occhiata. Francesco. Gioco il jolly. Entra la seconda lettera. Sguardo. Sostenere S, G, occhiata. Sostenere lo sguardo di qualcosa quando mantieni. Sì, sì. Francesco. Sguardo. Sostenere lo sguardo quando appunto mantieni lo sguardo fisso o guardando qualcuno. Sostenere un altro sguardo senza paura. Ah, ok. E lo sguardo è un'occhiata. Sì, dai uno sguardo, dai un'occhiata. Esatto. Allora Tommaso, vi diamo questo primo giro. Occhiata. Pi. Fresco. Tommaso. Pesce. L'occhiata è un tipo di pesce e il pesce fresco è quello che si va a comprare appunto in pescheria. Sì, sai perché l'occhiata è stata chiamata così? Questo non lo so. Perché verso la coda ha proprio... Ah, c'è una forma di un occhietto. Sì, sì, sì. Sì, una macchia nera su fondo bianco. Certo, che sembra un occhio. Vero, vero, vero. Esatto. Allora, bilancio dopo il primo giro. Un jolly utilizzato, 142.000 euro intatti. Marco. Fresco. F. Fossa. Marco. Formaggio. Il formaggio fresco come lo stracchino o la robiola. E il formaggio di fossa è quello che è stagionato dentro le grotte o dei... Di tuffo. Di tuffo, ah sì. Cioè, diciamo, un aroma particolare prende il famoso formaggio di fossa. Tommaso, sai qualcosa? No, no. Niente male. Forza, Francesco. Avete ancora un jolly, eh? Fossa. È le notte. Francesco. Leoni. La fossa dei leoni è quella in cui proverbialmente ti butti quando ti mischi in qualcosa di fericoloso, ma dove i gladiatori anticamente invece sfidavano i leoni. E una notte da leoni è quando fai una notte, diciamo, molto divertente e anche un film, tra l'altro. Una saga. Una saga di film. Che Tommaso ha visto perché me lo annuisce chiaramente. E allora, Tommaso, andiamo a chiuderla. Proviamoci. G, chiaro. Vi ricordo che avete ancora un jolly. Tommaso, gioco jolly. Ok. Eccolo qua. Notte, gi, i, chiaro. Da giorno alla notte. E chiaro. Ma bagliare a giorno è quando c'è chiaro. Giro. Notte di giro. Mi veniva guarda, Diana. Vabbè. Tommaso. Giorno. Notte e giorno è l'alternarsi, no? Che abbiamo di luce e ombra. Si usa anche due situazioni molto diverse. Due persone anche diversano il giorno e la notte. E chiaro giorno, cioè quando è giorno è chiaro. C'è la luce. Sono quasi sinonimi, no? Fa chiaro. Fa chiaro. Fa chiaro. Esatto. Aila. Ce l'avete fatta. L'avete portato fino in fondo, fino all'ultima parola, 142.000 euro. L'applauso è per voi e 142.000 euro è il valore dell'ultima parola. Bocca al lupo, fratelli Bartoloni. Stasera davvero una cifra altissima. E giocate anche voi con noi da casa. Partiamo da chiaro. D, E, O finale è il terzo elemento. Allora, a me è venuta subito una trasmissione in chiaro, esattivamente. Che è in D, in D, in chiaro. O in chiaro sul satellite, quindi è in digitale. Adesso le trasmissioni in chiaro sono quelle in digitale. Ok. Chiaro di luna, fu una cosa chiara, lampante. Sì, quando è che dici chiaro? Chiaro, quando è ovvio, quando è deciso. Deciso, sì. Oppure, chiaro, oppure un vantaggio chiaro, un vantaggio decisivo, per esempio. E il deposito. Ora mi avrete un debutto, un debito. Un debutto, una trasmissione in chiaro. No, 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 lo so. Fare chiaro è come chiarire, no? Chiaro. Quando vuoi... Il chiaro dell'uovo è il... La chiara dell'uovo, oppure il chiaro, il rosso. Detto, cioè sempre per dire chiaro, come dire, come intercalare. Chiaro. Abbiamo dei note deciso. Deciso, deciso e debutto per ora sono carine. Il tuo destino è chiaro, scritto nelle stelle. Sì, sì. Un destino, debutto, deciso. De voluto, de... Chiaro. Dedicato. Dedicato. Delicato. Un capo delicato. Un chiaro, chiaro, delicato. Un colore chiaro. Un colore chiaro, un colore delicato. Bellino. Bella, molto carina. Un colore chiaro. Comunque, delicato. La teniamo... Debutto, destino. E delicato. Destino e delicato sono i più carini. Chiaro, altre... Ok. Deposito, deposito in chiaro. Detto. Destituito. Detonato. Chiaro. Deciso. Decisivo. Sì, ci abbiamo già detto, è fra quelle da... Defenestrato. Delitto. No. Castigo. Delitto chiaro di... Chiaro di de... Chiaro di luna anche. Sì, sì. Chiaro di luna. Di de... Sì. Dentifricio. Dentifricio chiaro. Che ti rende il... No. No. Sbianca, no. Dentifricio. Ecco, pensiamo a cose molto... Un po' più lunghe. Un po' più oggetti inanimati. Cioè, un chiaro, chiaro... Il de... Chiaro come l'acqua, si dice, no? Limpido come l'acqua, forse. Chiaro, magari... Decisivo. Decisivo, l'ho detto. Un vantaggio chiaro, un vantaggio decisivo. Devoto. De... Oppure è un chiaro segnale. Francesco. Sì, sì, certo. Compriamo il terzo elemento. Ci abbiamo più parole. Allora, i 142.000 euro si dimezzano, 71.000 euro. Ecco il terzo elemento. Difficile. Un momento delicato, è un momento difficile. Ok, debutto difficile. No. Deciso? Deciso, difficile. Difficile, cosa sarò detto poi? Un momento delicato, no? Decisivo? Decisivo, un momento decisivo e un momento difficile. Però, chiaro, decisivo non è... No, più meglio delicato. Meglio deviare di più anche a me. Però vorrei un attimo snocciolare bene... Sì, sì, sì. Quelli che almeno avevamo. O anche altri, nel caso. Difficile. Decisivo. Qualcosa di difficile, è qualcosa di... Un'impresa... Un momento difficile, un momento delicato. Eppure come dire, una cosa difficile è una cosa che può accadere raramente. Cioè è difficile. Ah, ok. Quindi è desueto. Desueto. Però... Delicato. Francesco. Troviamo. Delicato. Togliete le cuffie. Vai. Perché un colore chiaro è un colore delicato, tipo i colori pastello, un verde chiaro, un viola chiaro, qualsiasi colore. E delicato e difficile in certi ambiti possono essere sinonimi, tipo una situazione difficile, delicata, da affrontare con determinati accorgimenti. Ecco, potrebbe essere... Arrivati in ballo due parole, se non sbaglio. Decisivo. Decisivo. Perché è un momento difficile, è un momento decisivo. Un vantaggio chiaro, è un vantaggio decisivo. Momento difficile, è un momento decisivo, come questi in genere. Esatto. Sì, era un... Questa è quanta. Allora, posso dirvi che tra queste due parole c'è proprio quella che vale 71 mila euro. Tra delicato e decisivo. E che porterebbe il vostro Montepremi complessivo a quasi 170 mila euro. Andiamo? La parola di stasera, del valore di 71 mila euro, è... E' dedicato! Sì! Ve l'hanno fatta! Grandi! Vabbè, secondo me, dicono questi ragazzi veramente molto bravi. Domani tornano loro, tornate anche voi. Vi aspettiamo a reazione a catena. Adesso c'è il TG1. Buona serata a tutti. Bravo! Grazie. 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 Grazie.